buona giornata amici da massimo foghetti bentrovati alla rassegna stampa di pano tv oggi è sabato 15 aprile 2023 e vediamo subito chi si festeggia oggi oggi è un santo particolare un santo che ha immolato la propria vita per aiutare gli altri si tratta di san damiano de weuster una località del belgio fiammingo ebbene san damiano è padre damiano di molokai forse qualcuno ricorderà un vecchio film interpretato da spencer tracy è l'isola dei librosi nei pressi delle hawaii un inferno che padre damiano trasformò in un paradiso diciamo un inferno che padre damiano santificò inviato missionario nelle hawaii restituì ai lebrosi la loro dignità e anche lui purtroppo morì di lebra proprio il 15 aprile come se fosse oggi però nel 1889 questo appunto è padre damiano le previsioni del tempo ecco la grafica ancora una nuvolosità irregolare con temporanei acquazioni e deboli piogge un po' disorganizzate nelle aree interne asciutto altrove non dovrebbe piovere sulla costa i venti respireranno da sud sulle coste da est sud est mentre nell'interno nell'interno ci saranno ventate che vengono anche da sud ovest in modo particolare non proprio da sud le temperature le temperature le minime si attestano a 8 gradi le massime 17 calono un po' rispetto ai giorni della primavera anticipata ora siamo in primavera un pochino inoltrata ma insomma le temperature sono ancora piuttosto fresche piuttosto fredde oseremo dire e allora apriamo oggi il corriere adriatico vediamo subito la pagina di fano ma l'apertura è la stessa che appare sul resto del carlino perché c'è una buona notizia scavi archeologici di via vitruvio dal ministro arrivano 45 mila euro ne erano stati richiesti 50 mila ma il fatto che sono arrivati 45 quindi la cifra per sa poco è quella ma così celermente magari qualcuno temeva che si andasse alle calende greche per avere questi soldi in realtà il ministro san giuliano ha risposto celermente alle richieste che sono state fatte tra queste c'era anche la richiesta dell'onorevole antonio berlo antonio scusate baldelli che proprio ieri ha annunciato la notizia ieri è giunta la notizia che tutti aspettavano con impazienza la comunicata appunto l'onorevole antonio baldelli di fratelli d'italia il ministro della cultura gennaro san giuliano ha erogato un primo finanziamento di 45 mila euro a cui ne seguiranno ha detto poi l'onorevole molti altri per la prosecuzione degli scavi nello stabile di via vitruvio dove lo scorso marzo tutti ormai lo sappiamo sono stati riportati alla luce alcuni importanti riperti attribuibili in via ipotetica alla basilica di vitruvio quindi ora la sopraintendenza ha tutte le risorse necessarie per estendere gli scavi e capire se veramente quei reperti che sono venuti alla luce quei bellissimi pavimenti in marmo pregiato appartengono poi alla basilica di vitruvio e c'è anche una dichiarazione sul giornale dell'assessora alla cultura cora fattori la quale dice che una volta che è stato accertato quello appartenenza di quello che è venuto alla luce il comune impiegherà altri 20 20 mila euro per quanto riguarda che cosa per quanto riguarda altri scavi magari in via vitruvio stesso che è un luogo pubblico quindi 45 mila euro dello stato più i 20 mila euro del comune insomma si avrà la possibilità di fare veramente un'indagine completa del luogo che è stato veramente trovato in maniera significativa dell'affano romana ed ora passiamo ancora ad un altro argomento che è salito alla ribata non voglio farvi vedere anche il titolo del resto del carlino per quanto riguarda vitruvio scavi avanti tutta arrivano i finanziamenti in via vitruvio si potrà proseguire antonio baldelli fratelli d'italia il ministro della cultura ha erogato una prima tranche di 45 mila euro e questo il fatto che è una prima tranche vuol dire come abbiamo visto che altri poi finanziamenti seguiranno ebbene se ci saranno sviluppi interessanti che stavolta il governo si dimostra disponibile ad aiutare appunto alla soprintendenza allora passiamo un po' di un'altra notizia un'altra notizia è un ritorno a quanto si è detto nella giornata di ieri è stato evidenziato nella giornata di ieri dai giornali per quanto riguarda il vittoria colonna ordinanza di sgombero per l'ex convitto colonna per luciatarsi l'unica soluzione possibile è quella di avere una ordinanza di sgombero una ordinanza di sgombero che imporrebbe alla proprietà di chiudere bene l'accesso allo stabile e poi eventualmente fare interventi per proteggere tutto il grande complesso tarsi rilancia dunque i contenuti di una sua precedente interpellanza consigliare discussa il mese scorso per quanto riguarda i controlli della polizia e poi ci sono stati dopo quell'episodio altre invasioni altre presenze abusive altri blitz della polizia in un contesto di vicende un susseguirsi di vicende che purtroppo ancora non si è arrestato vediamo anche come tratta il resto del carlino la vicenda vediamo qua ex convitto nel degrado residenti in trincea continuano le proteste per la situazione a due passi dal centro via via la via del vittoria colonna è veramente a due passi dal centro lì c'è via cavour che poi introduce proprio nel cuore del corso cittadino crediamo sia necessaria la presenza costante di una pattuglia di polizia per quanto riguarda la protesta nessuno sta facendo veramente nulla per fermare gli ingressi notturni ingressi che poi vengono sono oggetto di di timori da parte dei residenti perché lì dentro succede veramente di tutto è una prova è stata dimostrata da quanto hanno trovato poi le forze di polizia una volta fatto l'ingresso nello stabile tutto in disordine tutto sporco tutto distrutto vandalizzato e via dicendo torniamo torniamo al corriere adriatico vediamo le altre notizie soprattutto per quanto riguarda il funerale di giacomo il giovane che è deceduto nel corso di un incidente sul lavoro in una ditta di bellocchi ieri si sono svolti i funerali nella chiesa della gran madre di dio a san lazzaro giacomo ha dato luce a tutti noi adesso vivrà nelle nostre anime e quanto ha detto il sacerdote durante la celebrazione del rito tragedia sul lavoro ai funerali le parole anche dei familiari soprattutto degli amici la cgl poi si proporrà parte civile al processo contro la proprietà della ditta giacomo aveva un sorriso indimenticabile ha dato luce a tutti quanti noi ha detto poi anche un suo amico nel saluto al termine del funerale celebrato appunto ieri mattina davanti a una chiesa gremita da tante tante persone il sacerdote don francesco ha cercato parole di conforto e di speranza soprattutto per la mamma di giacomo cesaretti simonetta e poi anche per il fratello matteo veramente un momento di grande commozione e ieri ha pervaso un po tutta l'assemblea nella chiesa di della gran madre di dio veniamo alle altre notizie un incidente c'è una notizia di cronaca a fondo pagina un incidente anzi due incidenti si sono verificati nella giornata di ieri a fano prima di tutto un frontale tra un auto che ha prodotto cinque feriti paura per una donna incinta ma per fortuna sembra che non sia in grandi condizioni questo incidente questo più grave è avvenuto alle 14 45 in viale piceno al pronto soccorso dell'ospedale santa croce che non è molto lontano per fortuna è giunta una giovane donna all'ottavo mese di gravidanza poi ci sono state anche altre quattro persone coinvolte che hanno dovuto ricorrere alle cure mediche l'altro incidente si è verificato qualche ora prima erano le 8 e 15 sempre in viale piceno dove una fiat banda che scendeva dal cavalca ferrovia che collega e le lungomare da appunto la statale adriatica a si è scontrata con una motocicletta piaggio su cui viaggiava un fanese di 61 anni diretto verso il centro storico nello scontro ovviamente è stato quest'ultimo ad avere bisogno di soccorso ed è stato trasportato sempre anche lui al pronto soccorso dell'ospedale di fano omologato o approvato l'autovelox sotto accusa e qui siamo a caigli già ne abbiamo parlato di questo autovelox e in quanto l'onorevole della lega che è anche un avvocato paolini aveva così messo in discussione la legittimità di questo strumento omologato o approvato è una differenza sostanziale perché secondo la magistratura se un autovelox non è omologato non è legittimato ad operare non basta che sia solo approvato e sembra che quello di Cagli ancora non è certo però sembra che non sia omologato e questo permetterebbe a tanti automobilisti che hanno ricevuto multe pensate che il sindaco stesso ha detto che ci saranno 100 multe al giorno prima addirittura ce n'erano 300 potranno fare ricorso al giudice di pace numerosi multati per il famigerato autovelox hanno già fatto ricorso al giudice di pace di urbino tra questi un'automobilista di fossombrone che ha prodotto una vasta documentazione giuridica la cui sintesi sottolinea che le multe per eccesso di velocità accertate con un autovelox non omologato ma semplicemente approvato possono essere invalidate e quindi adesso aspetterà il giudice di pace stabilire con la sua sentenza chi ha ragione vediamo ancora le altre notizie passiamo a cantiano a cantiano si discute e purtroppo sulla contessa sulla contessa che verrà chiusa elimina buona parte di collegamenti che la città sub appenninica ha con il resto dell'umbria con insomma il centro italia contessa è un lavoro necessario ma per noi ha detto il sindaco alessandro piccini piove sole bagnato non bastava l'alluvione non bastavano tutti i danni che le sondazioni il più grande la bomba d'acqua ha provocato ci voleva anche la chiusura della contessa e quindi il sindaco di cantiano chiede celerità sui lavori fate presto apritela più presto questa strada questa arteria che per noi è vitale anche per i collegamenti si tratta anche di una struttura di valore economico importante perché insomma avere delle comunicazioni con il resto del centro italia è importante per le ditte che lavorano e poi a fondo pagina abbiamo un lavoro che è originale quello di realizzare i parlamenti sacerdotali per le alte sfere ecclesiastiche addirittura per il papa il sarto dei papi mostra il suo tesoro al museo diocesano ebbene è di origine di mondolfo questa attività l'atelier loves di filippo sorcinelli il sarto dei papi fa tappa al museo diocesano di imola ebbene il laboratorio fondato a mondolfo è sviluppato poi a sant'arcangelo di romagna in quasi 25 anni di attività si è distinto per la cura l'arte la delicatezza con cui elabora i suoi paramenti di arte sacra paramenti che hanno indossato esponenti della chiesa di particolare importanza tra cui c'è anche benedetto sedicesimo e papa francesco e tra i paramenti che saranno esposti in questa mostra ci saranno quelli appartenuti a indossati a papa da papa ratzinger in san pietro e in alcuni viaggi apostolici poi ci sarà anche la mitra gemmata per la papale visita di genova e la stola pastorale di assisi ci saranno anche i piviali casule mitre tessuti di sete broccati lane pregiate insieme a opere di argenteria per quanto riguarda calici e pastorale veramente dei paramenti eccezionali ed ora diamo un'occhiata anche la pagina di senigallia sul corriere adriatico dove si parla ancora di alluvione insomma questo è stato veramente un evento nelle 2022 che ha lasciato il segno che ancora non si cancella ebbene l'alluvione ha ancora un processo da iniziare mio padre non avrà più giustizia parla così il figlio di aldo cicetti che fu travolto dalla furia del misa in quel lontano 3 maggio del 2014 14 ci sentiamo presi in giro insomma questa attività lenta della giustizia questa difficoltà a dare una risposta celere a chi vuole giustizia ebbene quel maledetto 3 maggio del 2014 i coniugi cicetti erano nella loro casa di borgo bicchia quando il misa li ha sorpresi la moglie è riuscita a mettersi in salvo il marito si è grappato al suo soccorritore ma la forza del fiume l'ha strappato via e insomma in questo caso il figlio intravede delle responsabilità e quindi vuole che queste siano accertate siano frutto di una sentenza da parte del giudice una qualche notizia di pesaro anzi vediamo subito nelle marche dove nelle pagine dedicate appunto alla regione si parla di un problema sanitario di cui a cui tutti purtroppo fanno riferimento liste di attesa l'incubo l'incubo continua febbraio e marzo da bollino nero secondo i dati che sono stati desunti mammografia programmata ma nell'azienda ospedaliera universitaria delle marche si aspetta 325 giorni quasi un anno arrancano anche le prime visite per andrologia e chirurgia vascolare scattano le liste di garanzia al cup e vediamo quali sono gli esami che per effettuare i quali occorre aspettare tantissimo tempo li vediamo qui in questa tabella teste cardiovascolari da sforzo ecografia ostetrica EMG dinamica dell'arto superiore fotografia del fundus valutazione EMG dinamica prima visita di andrologia prima visita di chirurgia vascolare risonanza magnetica dell'addome inferiore risonanza magnetica della colonna e risonanza magnetica dell'encefalo chi ha bisogno di questi esami purtroppo deve ancora aspettare tantissimo e mentre gli esami si fanno attendere vediamo però che l'attività chirurgica di avanguardia giunge ad altri obiettivi operato al cervello da sveglio immerso nella realtà virtuale è stato eseguito in Ancona il primo intervento in Italia di questo tipo eseguito dall'equipe di Trignani appunto nell'ospedale di Torrette. Pesaro apre invece con una notizia dei alienazioni patrimoniali da parte del comune scuole da vendere ma Ricci non farà spostare gli alunni ci sono tre edifici scolastici che cambiano destinazione appartengono al patrimonio del comune e sono stati inseriti nel programma delle alienazioni patrimoniali si tenta di venderli per realizzarvi altre cose vediamo qual è il piano delle alienazioni ebbene si tratta della scuola confalonieri quella che è a Pantano un valore stimato di un milione passa a residenze e attività terziarie la scuola mascarucci di Soria valore stimato 2 milioni e 200 mila euro passa a residenze attività terziarie e servizi e poi la sede totem del quartiere di Villa San Martino valore stimato 300 mila euro passa a terziario e a residenze e poi voglio segnalarvi ancora la vicenda del biolab questo laboratorio di carattere sperimentale che viene contestato dai residenti biolab il comune venderà il terreno ma prima si aspetta il parere del tar è una dichiarazione questa dell'assessore Pozzi che fa chiarezza sul laboratorio che l'istituto zoo profilatico realizzerà a Torraccia la questione è tornata in auge in assise cioè nel consiglio comunale per un dibattito attivato dalla consigliera lisetta sperindei e poi questa questa interpellanza questo ordine del giorno scusate è stato respinto con 20 voti contrari però insomma ha dato la possibilità all'assessore Pozzi di fare chiarezza ed ora passiamo al resto delle Carlino abbiamo parlato del di Vitruvio abbiamo visto qua nella pagina di Fano ma a la seconda pagina abbiamo un articolo che riguarda le prossime elezioni ebbene c'è ancora Mascarin l'assessore Mascarin che ha attivato la campagna elettorale in primo piano lo vediamo qua in una fotografia primarie Mascarin anticipa tutti è scattata la campagna elettorale dalle parole ai fatti partita la campagna elettorale per le primarie del centro-sinistra ebbene la proposta che ha fatto Mascarin che le elezioni del 2014 avrebbero dovuto passare attraverso le primarie sembra che sia stata accolta ancora una volta è appunto Mascarin assessore ai servizi educativi a tirare la volata con la programmazione di una serie di spot televisivi dal titolo oggi non domani insieme verso le primarie del centro-sinistra sono delle proposte nelle quali ribadisce la sua candidatura a sindaco il primo spot è andato in onda l'altro ieri sera e poi ne seguiranno almeno un'altra decina questo è quanto afferma appunto il resto del carlino e poi il giornale interviene anche sul stabile della wider che sta sorgendo nella zona adibita alla cantieristica in zona porto a fano uno stabile la cui struttura sta sollevando proteste perplessità azioni contrarie ed ora la wider fa vedere come sarà l'aspetto definitivo di questo stabile lo vediamo in questo rendering la wider che verrà esposto anche il rendering l'azienda dice l'edificio avrà uno stile contemporaneo il muro esterno rivolto verso il mare presenterà il profilo stilizzato di uno yacht dunque uno stabile che non è uno scatolone non è un cantiere non è un capannone così magari anonimo ma è realtà un oggetto di architettura contemporaneo con uno stile ben definito e dopo le polemiche dei giorni scorsi sull'impatto della struttura in un luogo delicato come la seconda d'arsena tra porto peschereccio e porto turistico le immagini sono da parte di wider in modo più chiaro ed efficace per rispondere alle critiche insomma noi faremo questo non è uno scatolone quello che si vuole fare e veniamo ad un altro articolo che riguarda un'iniziativa che si svolge a mondolfo un workshop sul lavoro e sicurezza evoluzione della normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro è il titolo dell'interessante quanto mai attuale workshop che si terrà questa mattina nella country house di perbacco di mondolfo a partire dalle ore 10 abbiamo parlato del vittoria colonna ex convitto nel degrado residenti in trincea ed ora passiamo invece ad un'altra notizia che riguarda la chiusura di uno sportello bancario da metà maggio chiuderà i battenti l'unica banca esistente tra sassonia e lido si tratta di della filiale delle credit agricole attualmente nei locali di proprietà del comune sull'esterno del mercato ittico all'ingrosso vediamo qui la fotografia dello sportello bancario che è questo qui la conferma arriva dalla stessa banca e fa parte della strategia dell'istituto di credito che porterà ad un potenziamento delle filiali esistenti ed una loro maggiore strutturazione a tutto vantaggio dei clienti chiuderà anche l'agenzia di via cavur visto la vicinanza con la sede centrale di piazza 20 settembre insomma da una parte si dice che si cercherà di potenziare le filiali esistenti dall'altra qualcuna se ne chiude insomma vediamo come poi si ristrutturerà questo programma di carattere bancario e siamo siamo a san giorgio terre roveresche e vediamo la fotografia di un personaggio molto noto si tratta di roberto vecchioni il poeta della canzone a proda san giorgio porterà nel piccolo paese metaurense una tappa del suo nuovo tour uno spettacolo di canti immagini e monologo sarà sul palco con la sua band storica in occasione della fiera risalente alla seconda metà dell'ottocento una iniziativa che si terrà il 25 aprile appunto a san giorgio vediamo anche la pagina di urbino urbino i camion del mercato rovinano i marciapiedi l'allarme di massimo guidi sono stati costruiti con i fondi dell'unesco servono per guardare il paesaggio le ruote dei mezzi lì non devono andare a dichiarato e dato che oggi siamo nel weekend voglio farvi notare anche alcune notizie di sport vediamo che per quanto riguarda la vis oggi si propone un incontro importante oggi a cesena vis vinci e questo l'input che danno i tifosi vince per daniele mei daniele mei è un dei tifosi più rappresentativi che purtroppo è deceduto in questi giorni invece il fano montegiorgio ferito il fano è avvisato montegiorgio naviga nei bassi fondi della classifica e lotta strenuamente per non retrocedere e quindi sarà una partita non molto facile per i granata domani al mancini una squadra che ha esonerato l'ennesimo allenatore in settimana e che ha la disperata caccia di punti per la salvezza e già all'andata il montegiorgio ha fatto soffrire il fano e quindi sarà una partita veramente importante ed è importantissima invece la partita che disputerà la vigilar contro l'ortona il per il gran giorno dei playoff domani alle 19 al palace alliende arriva questa squadra che lotta con la vigilar per il passaggio di categoria sarà uno una gara una finale una grande finale che vale l'accesso alla serie a 2 e sarà dunque una delle prime gare perché poi le gare sono tre quelle che devono disputare si gioca al meglio delle tre partite chi la spunta sale in serie a 2 dunque una cosa importante un'altra notizia vuole il grande ex per noi sfida di fuoco pino sacripanti cerca pesaro punti salvezza con scafati ed è l'ultima notizia massimo foghetti vi saluta vi dà appuntamento a lunedì prossimo sempre alle 7 puntuali come sempre grazie per l'ascolto a risentirci un'altra notizia massimo foghetti vi saluta